Certo, andiamo subito ad ascoltare le pillole di storia di Fabio Milano che ci parla di Luca Fusi. Buonasera a tutti e grazie per la linea. Per la pillola di storia di questa settimana facciamo gli auguri ad un giocatore ex Granata che proprio oggi compie 59 anni. Il 7 di marzo del 1963 nasce infatti Alecco Luca Fusi, difensore, centrocampista, giocatore molto molto eclettico, si adattava diciamo nella tre quarti difensiva come pochissimi altri, infatti appunto poteva ricoprire il doppio ruolo sia di libero che di centrocampista aggiunto, che di mediano come si chiamava una volta. Luca Fusi che esordisce ad appena 18 anni con la maglia del Como nel 1981, resterà con Ilariani per 5 stagioni dall'81 all'86, passerà un bienio alla Sampdoria dall'86 all'88 dove vincerà la Coppa Italia purtroppo in finale contro il Torino con quel gol durante i tempi supplementari di Fausto Salsano che ancora ci ricordiamo. Due stagioni anche a Napoli dove fa in tempo con Diego Armando Maradona a vincere la Coppa UEFA e uno scudetto. Ma arriva in Granata proprio nell'estate 1990 con il Torino di Gian Mauro Borsano neopromosso in Serie A, quindi nell'estate del 1990 appunto Luca Fusi è il colpo del mercato Granata. I freddi numeri, le presenze per Luca Fusi sono 170, coronate da tre reti, tutte molto preziose. Una che valse una vittoria a Napoli proprio nella stagione 90-91, quindi il classico gol dell'ex. Uno durante la Coppa Italia del 1992-93 negli ottavi di finale contro la Lazio che permise di passare il turno in una gara molto complicata all'Olimpico di Roma. E come dimenticare il gol del 2-0 contro il Real Madrid che valse la prima finale europea per i Granata. Durante quella partita proprio dopo il raddoppio di Luca Fusi ci fu un'ammunizione che a mio modo di vedere fu fatale per lui ovviamente perché saltò la finale di andata di Torino contro l'Ajax e poi soprattutto per tutta la squadra Granata perché come detto in apertura Luca Fusi era un giocatore molto molto prezioso. Era un jolly sia in marcatura che in fase offensiva. E il centrocampista di Lecco mancherà veramente molto ad Emiliano Mondonico che inventerà poi Enzo Scifo in marcatura su Dennis Bergkamp. Però poi quella finale pareggiata 2-2 a Torino andrà poi a finire come tutti sappiamo con la maledetta notte di Amsterdam e gli olandesi che alzano la Coppa che il Torino perse purtroppo senza aver mai perso in campo. Dunque tanti auguri a Luca Fusi e vi ripasso la linea. Vi do l'appuntamento alla prossima settimana. Grazie a tutti.